Armati di esplosivi hanno assaltato due bancomat di una banca di Firenze e di un ufficio postale della provincia toscana. Per questo motivo tre soggetti della provincia di Foggia sono stati arrestati dai carabinieri di Firenze supportati dai colleghi di Foggia e Cerignola. Si tratta di un 37enne e il nipote 22enne di Ortanova e un loro complice 36enne di Stornara. I due colpi sono stati messi a segno con la stessa metodologia. I tre giunti in Toscana con un'auto a noleggio hanno prima rubato un'altra auto per evitare di essere riconosciuti, poi hanno raggiunto e fatto esplodere i due bancomat per poi fuggire. Zio e nipote con il volto coperto da passamontagna la notte del 27 ottobre scorso hanno fatto esplodere l'ATM della filiale della Monte dei Paschi di Siena di Firenze utilizzando il metodo della marmotta. In quell'occasione riuscirono ad asportare diverse decine di migliaia di euro e a fuggire con il loro complice. Dieci giorni dopo il gruppo criminale ha fatto esplodere l'ATM dell'ufficio postale di San Casciano in Val di Pesa senza però riuscire a portare via il contenuto della cassaforte. Durante la fuga però i carabinieri di Firenze sono riusciti a localizzarli e a fermarli sulla A1 in provincia di Arezzo. I tre che dovranno rispondere di diversi reati sono stati arrestati e condotti nel carcere di Foggia.